Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in una nuova puntata di Far Cry 3. Il mio papà mi sta sparando con una 44 magno, sentite? Il mio nome come sempre è Biazzi Lorenzo e oggi, come potete vedere se siamo ritrovati davanti a questa torre, allora l'episodio 6, questo qui, quindi, mi sono passati un po' di giorni, avevo la camera piena ma ho fatto una missione che bisognava uccidere un orso immortale con uno shotgun e poi ho fatto un ricercato, quindi, cioè comunque, non erano molto difficili con le missioni e madonna sta un po' per cadere, erano solo tre missioni, non lo dico io, non lo dico perché dopo non voglio che vi lamentate perché non faccio tante missioni, perché io, tranne con tre missioni, penso di accontentarmi. in qualche episodio ne farò anche 4 magari nel 9 comunque si comunque farò in qualche episodio 4 mesi sì sì allora c'è un nuovo posto davanti a noi sinceramente io direi di andare a farlo madonna mia con quale velocità stiamo veramente siamo arrivati già è proprio perfetto io direi di accamparci qui ecco dobbiamo renderla vista all'allarme spero che ci sia solo quello ma non sono tanto sicuro intanto così ecco qua